Ma il processo non avrebbe mai dovuto svolgersi in questa città L'opinione pubblica ha influenzato la giuria Non è vero Ma all'inizio aveva detto che... Che l'assassina zoppicava Zoppicava Mentre l'uomo che hanno arrestato cammina normalmente Ha mentito Tutti volevano qualcuno su cui scaricare la colpa dell'omicidio Eravate in cerca di un capo ispiatorio Ma non capisci Non c'è più molto tempo Devi fare qualcosa prima che sia troppo tardi Tu sei il marito della vittima Sei l'unico che può ancora fermare l'esecuzione Devi parlare con il governatore Chiedigli di concederla grazie A te dar arredo Ricordatelo State commettendo un grave errore Eri innocente Lui non era mio padre Io sono l'uomo che ci sono dormanti Vi all did what we to do The watergator did not bother me